Rispetto alle ultime esibizioni dei Biancolossi, ma c'è una Fiorentina scatenata, Canals non riesce a contenere la furia di Oliveira che giustizia Brivio sul primo palo. Fiorentina scatenata, Canals non riesce a contenere la furia di Oliveira che giustizia Brivio sul primo palo. Inizio di ripresa, aggancia Oliveira, forse in fuorigioco. E' tutto regolare, dice l'arbitro, e palla chi?